Per la prima volta gli studenti delle scuole comunali di Vivo Valencia, dopo appena una settimana dall'inizio delle lezioni, si ritrovano in libro di testo sul proprio banco, avendo evitato così ai genitori quel complicato meccanismo delle cedole per il ritiro in libreria. Questa mattina la consegna è avvenuta per i ragazzi della primaria del convitto Finangeri con l'assessore all'istruzione Vania Continanza, che pur non nascondendo le difficoltà che gli uffici comunali hanno incontrato, si mostra soddisfatta per essere riuscita ad evitare i soliti disagi per studenti e famiglia. Siamo riusciti in tempi veramente brevi ad avviare da oggi la consegna dei libri di testo nelle scuole. È stato molto difficile realizzare tutto questo perché ci sono stati ben quattro bandi andati deserti e quindi abbiamo lavorato molto intensamente perché potessimo arrivare a questo punto. Ma ci siamo riusciti e quindi già questo è un primo segnale di un inizio dell'anno scolastico che sia proficuo e che comunque sia produttivo per tutti. Seguirà poi anche la consegna dei libri di testo, anche l'inizio della mensa scolastica e poi tutte le attività connesse a questo nuovo anno scolastico 2024-2025. Attraverso una trattativa diretta sul MEPA con Libri Italia è stato possibile venire fuori dall'impasse e praticamente offrire i libri senza ritardi. Ci siamo trovati in una condizione di emergenza perché effettivamente come diceva l'assessore ci sono stati diversi bandi andati deserti per l'assegnazione di questa distribuzione e siamo corsieri pari. In pratica abbiamo lavorato ad agosto, abbiamo iniziato ad avviare la procedura nel 14 di agosto proprio in piena attività feriale. Nonostante gli editori fossero tutti chiusi e tutta la condizione fosse abbastanza disagiata, però insomma siamo riusciti a completare con un grande appoggio da parte del Comune, è un lavoro veramente formidabile da questo punto di vista, siamo riusciti dall'1 settembre ad avviare tutto l'ordinativo cumulativo e oggi ci troviamo qui effettivamente evitando la cedola proprio libraria che era insomma l'assessore in tutti i modi non ha voluto questo tipo di situazione e voleva far trovare i libri proprio sui banchi delle scuole. Questa è stata la nostra missione che alla fine in qualche modo stiamo riuscendo a compiere. Soddisfatto il rettore del Finangeri Alberto Capria. La consegna tempestiva dei libri per la scuola primaria è fondamentale, il fatto che l'amministrazione sia riuscita a consegnare nella prima settimana di lezione è qualcosa che certamente facilita il lavoro dei docenti perché dicevo pure prima il digitale è importante ma i libri cartacei restano ancora lo strumento elettivo per poter fare didattica.